Ciao, sono Paolo Baccio e vi presento questo Enag Magnum, un motorhome comodo per quattro persone. Cliccate sulla vostra destra in alto e si aprirà la scheda di questo camper con tutte le caratteristiche, chilometri e optional compresi. Poi iscrivetevi al canale YouTube che sarete sempre aggiornati sui nostri video. Andiamo alla parte garage. Guardate che garage molto grande e qui è la sua grandezza e qui sotto le dimensioni. Questo camper è un camper che ha veramente tanti accessori, quindi molto completo. Ora andiamo al suo interno, la zona giorno. La zona giorno, uno, due, tre, quattro, cinque, sei persone. Poi il motorhome dà una bellissima luminosità, il tavolo molto funzionale che gira e quindi diventa grande o più piccolo, perché quando siamo a fare due chiacchiere con amici è sempre un bicchiere e qualche nocciolina, lo tiene sempre un tavolino piccolo così ci permette anche di star meglio. Poi un bello bloc in alto, finestra e laterale sinistra. Poi andiamo a farvi vedere il letto. Questo è un camper comodo dalle due persone, però anche una famiglia di quattro è perfetto. Qua il letto, come vedete il letto non disturba la zona giorno e è un bel letto matrimoniale, oltre ad avere tutto il rivestimento sia per migliorare l'isolamento, ma soprattutto per migliorare l'isolamento acustico. Il blocco cucina, un grandissimo piano d'appoggio, tre fuochi, un bel lavello e poi dei contenitori, pensili molto capienti sul lato sinistro. Da quest'altra parte porta tv, un bel vano sopra il frigorifero, poi congelatore e frigorifero. Il pavimento ha questo sfruttamento di un contenitore sul pavimento. Di qua, i contenitori sotto cucina. Uno, i pen e cassettiera, e altro contenitore. Poi, la doccia, eccomi qua, ha il suo funghetto, quindi facilmente ci sto dentro. Anche per quanto riguarda lavare un bambino, immaginatevi di chiudere questa, quindi assolutamente non bagnate, e rimane molto funzionale. Poi, la chiusura, che divide la parte giorno alla parte servizi, e quest'altra, che divide la parte servizi dalla parte notte posteriore. La toilette, qua, la seduta, qua, il contenitore sotto il lavello, qua, un pensile sopra la finestra come scambio di aria. E poi un bel lavandino, guardate che mi lavo bene, proprio molto molto funzionale. La parte notte, i classici due singoli, quindi la possibilità di avere due singoli, una a destra e una a sinistra, oppure con la prolunga, avere un altro materasso qui, e creare tre posti, uno, due, tre, oppure un enorme matrimoniale per traverso. Poi, per quanto riguarda i contenitori, qui è l'apertura, e qua è l'apertura di sopra, quindi molto facile l'accesso. Qua, con l'apertura di sopra, un bell'armadio. E poi, anche questo, lo scalino, guardate quanta roba scelta. Quindi, un bel camper, seminuovo, molto accessoriato, chiamateci o venite a vederlo, perché è un camper da due a quattro persone, molto comode, e come sempre, agli ottimi prezzi e servizi carabambacci. Ciao!